Siamo a Bilbao per il lancio di Nuova Twingo. Per accompagnare questo lancio, Renault ha ideato un progetto artistico molto creativo, molto originale, ma anche molto divertente. Ha scelto quattro artisti di fama mondiale, tutti con nazionalità e mestiere diverso, e ha lanciato loro spazio di libertà creativa totale per realizzare quattro laboratori creativi all'interno di Nuova Twingo. Quattro artisti, Daniele Scabin, un cuoco italiano di fama mondiale, con la sua Scabin pasta Twingo. Quasi una cucina, uno spazio intemporale dove progettare e riflettere, uno spazio molto italiano. Jean-Charles de Castelbajac, un famoso stilista dell'alta moda francese, che con tanto umorismo ha saputo ricreare la grandeur parigina, ricordando l'Elysée. Niels Holger Moorman, un designer tedesco pluripremiato, con la sua Waggonlier, un Waggonlier molto speciale, con una libreria all'interno della Twingo. E infine Nicola Roberts, una giovanissima cantante inglese, oggi nelle top charts londinesi, che ha saputo ricreare il suo mondo edonistico con INR, ai Nicola Roberts. Tutti i progetti è l'insegno della creatività e dello spirito brillante e originale della nuovissima Twingo, per sottolineare il suo spazio interno modulabile, le sue svariate personalità e il suo design moderno e complice.